I can't believe I'm falling in love Papà se sono qua è per sapere una volta per tutte la verità del tuo allontanamento Per donato cose che io non avrei mai tollerato Mille volte grazie per tutto quello che tu fai per me ogni giorno Con Maria De Filippi c'è posta per te sabato in prima serata canale 5 Grazie a tutti